Soprattutto a rubar tempo alla musica, da parte mia e dell'amministrazione, buona serata e grazie, lascio la parola a Laura Beducci che sarà intanto voce splendida che sentiremo e abbiamo già sentito qui a Castellione, ma anche presentatrice della serata. Grazie a tutti e grazie anche a voi che siete qui. Buona serata. Grazie Loretta. In primis ringrazio adesso Lucio, Flavio e Franco e tutto Castellione per avermi dato l'opportunità di fare la presentatrice perché io nasco come cantante e per me è un onore presentare questi ragazzi, queste ragazze, questi artisti che si esibiranno questa sera. Iniziamo con Chiara. Chiara Malibrani. Prego se vuoi intanto raggiungermi. Per ogni solista e artista che si esibirà ho un breve profilo artistico. Chiara ha 13 anni, canta da circa 4 anni e frequenta la scuola diretta del maestro Ruggero Ricci. Di Faenza. La sua passione per il canto nasce sui banchi di scuola grazie all'intuito della maestra Angela Tommassetti, dandole la possibilità di cantare e sostenendola nei suoi concorsi canori. Le sue esperienze più importanti devo dire che sono, lei scrive così di lei, fortunata perché ha avuto l'onore di partecipare a Provini nel 2015 a Roma, nello studio di De Amicis. E l'anno successivo ha cantato in diretta alla sigla di Castrocaro, essendo arrivata in finale con ottimi risultati. Per il futuro lei prevede, come ogni artista, di preparare i suoi inediti e magari di tornare in questa bellissima piazza e presentarveli. Un applauso a Chiara, prego. Grazie. 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 Grazie.